di lavoro insieme, io lascerei innanzitutto la parola alla nostra presidente, Luisella, per i saluti, per cui Luisella ti lascio subito la parola e dopo il tuo intervento diamo avvio al nostro momento formativo. A te Luisella, grazie. Grazie, grazie Lorenzo, grazie a tutti, è bello ritrovarci per iniziare un nuovo anno insieme e con il ciclo di incontri appunto di formazione di comunità. Oggi appunto è la prima volta, ci seguiranno altri incontri sempre con questa modalità, però io volevo approfittare anche di questo momento per dirvi che abbiamo iniziato questa volta in presenza fisicamente il nostro viaggio come centro servizi di volontariato nelle quattro province dei nostri territori. A Pavia abbiamo allestito tre incontri, a Vigevano, Voghera, Pavia, sull'Odigiano due incontri a Lodi e a Codogno, per incontrare davvero in presenza le nostre associazioni socie, ma non solo, perché questi incontri sono aperti anche a quelle associazioni che spesso incrociamo durante questi webinar, per esempio, oppure in altre occasioni. Abbiamo deciso di fare questo viaggio, questo giro, per diversi motivi. Adesso io non ve li racconterò tutti. Il primo è sicuramente quello di ritrovarci in presenza, in modo da riprendere un po' quelle relazioni che in questi due anni sono state interrotte, ma soprattutto anche per ascoltarvi, per metterci in dialogo con voi, per poter capire quali sono meglio le vostre esigenze, i vostri bisogni, ma anche le vostre osservazioni e riflessioni, e portare un po' quella che è la visione che abbiamo maturato in questi anni come centro di servizio per il volontariato e presentare un po' quello che abbiamo chiamato a livello nazionale quello che è il manifesto dei centri servizi, che in otto punti tocca alcuni temi che in questi anni abbiamo affrontato e che abbiamo condiviso con voi. Quindi approfitto di questo momento anche per invitarvi a questi incontri che a Cremona, sul Cremonese e sul Mantovano saranno in aprile, perché sarà un bel momento di incontro e di dialogo. Io vi ringrazio per la vostra presenza, perché comunque questa è anche una comunità che ormai si ritrova, io vedo tanti volti noti e quindi è anche bello insomma aver costruito un po' questa comunità virtuale. E lascio adesso appunto la parola al nostro conduttore che ormai è di famiglia a Ennio, perché ormai ci conosce meglio delle sue tasche e conosce di noi tutto, pregi e difetti, e con lui affronteremo questo tema e quindi ecco, tutto qui. Seguirò con voi con grande attenzione e con grande interesse. Grazie. Grazie, Luisella, grazie mille. Allora, prima di iniziare questo nostro momento, vi chiediamo solo un paio di minuti, lascio la parola a Paola Asti per un paio di comunicazioni tecniche e poi davvero entriamo nel vivo del nostro incontro. Prego Paola, a te. Sì, ok, buonasera a tutti, benvenuti, ben ritrovati, perché sicuramente ci sono molti visi che partecipano ai nostri consueti giovedì della formazione. Qualche notizia proprio tecnica. Per la prima volta avete fatto l'iscrizione all'interno di MyCSV, i risultati sono stati ottimi, visto il numero di accessi. Avete ricevuto una mail in cui ci sono una serie di spiegazioni, però velocemente vi ricordo che nel giro di un paio di giorni, cioè dateci il tempo, troverete nella vostra area riservata, ora vi spiego come, il link alla registrazione, non abbiamo chiesto l'autorizzazione alla registrazione questa sera, ma l'abbiamo data per scontata, il link alla registrazione, le slide, e soprattutto una cosa fondamentale per noi, per tutto il sistema di CSV Lombardia Sud, che è un link ad un questionario che vi porterà via a vuoi tre minuti, non di più, molto importante, in cui voi potrete scrivere le vostre criticità, i vostri lati positivi, i vostri bisogni, perché per noi è fondamentale sia per l'esito di questi incontri che è poi per la fase di programmazione 2024. Per accedere è semplicissimo, come avete fatto l'iscrizione, basta entrare nell'area riservata, con la vostra user, la vostra password, formazione, c'è proprio il box formazione, le mie attività, a quel punto troverete tutte le attività alle quali avete partecipato, cliccate su formazione di comunità, le povertà ci riguardano, si apre un box e lì trovate tutti i documenti. Fermo restando che tutti gli operatori, sia dell'area che si occupa di animazione territoriale, ma comunque di tutte le altre aree, sono a completa vostra disposizione, quindi basta contattare l'operatore di riferimento della vostra provincia o comunque anche qualsiasi operatore di altre province, quindi di Lodi, Cremona, Mantua, ci riconoscete adesso, e Lodi ovviamente, ci riconoscete adesso perché abbiamo lo sfondo, però siamo in tanti e quindi siamo assolutamente a completa disposizione, non fatevi problemi. Se ci sono delle domande particolari alle quali voi avete necessità di risposta e questa sera non riuscirete ad avere un riscontro, perché magari si fa un'ora certa, potete tranquillamente metterle in chat e sarà premura degli operatori rispondervi senza problema. Vi auguro una buona serata e lascio la parola a Lorenzo e a Ennio. Grazie. Grazie mille Paola. Direi a questo punto che possiamo entrare nel vivo del nostro momento di formazione. Ringrazio ancora, vi ringraziamo ancora per la partecipazione, soprattutto ringrazio Ennio Ripamonti che come sapete ormai sin dal 2001 oggi ci sta accompagnando all'interno di questi momenti di formazione di comunità. Mi prendo qualche breve minuto per raccontarvi come sarà organizzato questo nostro momento di formazione, per cui inizialmente proverò io a restituirvi che cos'è la formazione di comunità, che è la sua ormai terza edizione, iniziata nel 2021, è proseguita nel 2022 e anche nel 2023. Saranno previsti quattro incontri di formazione, questo sarà il primo, e proverò anche a ricondividere con voi quella che è la sfida della formazione di comunità per CSP Lombardia Sud. Poi lasceremo la parola a Ennio per il suo intervento attorno al tema oggetto dell'incontro di oggi, cioè le povertà ci riguardano, per lasciare poi un 30 minuti finali più rivolte a possibili domande o a riflessioni o a condivisioni di alcuni aspetti che volete condividere o che volete meglio approfondire anche interpellando direttamente Ennio, quindi facendogli delle domande di approfondimento rispetto ad alcuni temi che introduce all'interno del momento di formazione. Entriamo nel vivo della formazione di comunità. Che cos'è la formazione di comunità? La formazione di comunità è un ciclo di quattro incontri che abbiamo pensato come CSB per tutti quei soggetti, e parliamo degli enti del terzo settore, parliamo delle istituzioni, degli enti pubblici, dei piani di zone, dei cittadini che nei vari territori vivono e abitano la comunità, creano la comunità, operano per e con la comunità. Quindi quattro momenti di approfondimento aperti a tutti questi soggetti a cui invitiamo alcuni esperti del settore che ci guideranno nella rilettura e comprensione dell'attuale contesto storico, provando ad aprire alcuni affondi attorno a temi e a questioni che abbiamo ragionato al nostro interno porteressere attuali. Per cui la formazione di comunità è un'occasione che come CSB abbiamo pensato di attivare ormai, per come vi dicevo, dal 2021, invitando e convocando tutti quei soggetti che stanno lavorando anche insieme a noi per provare a fronteggiare le complessità sociali che questo tempo ci stanno mettendo di fronte sentendoci tutti insieme parte di una sfida che ci piace dire ci riguarda un po' tutti. Qual è la sfida che guida l'idea della formazione di comunità? La sfida attorno a cui vi proponiamo di allearci e attorno a cui ci proponiamo tutti di allearci è quindi quella di provare a rileggere il periodo dentro cui ci ritroviamo tutti ad operare convergendo tutti insieme attorno ad un obiettivo comune. L'ipotesi di fondo ci piace sempre ricordarlo quindi l'ipotesi di fondo che guida questi incontri di formazione di comunità non è quella di trovare delle risposte risolutive ma è quella di provare a lasciarci interrogare nella stagione degli esiti ignoti. Sappiamo benissimo che stiamo attraversando ormai da tempo un periodo complesso stiamo attraversando un tempo che è caratterizzato e lo stiamo vedendo un po' tutti anche da grandi contraddizioni per cui una delle domande che ci ha interrogato è ma come possiamo abitarlo e non solo attraversarlo sperando inutilmente che tutta possa ritornare come prima. Spesso ci capita anche negli incontri con i territori con le organizzazioni con i cittadini di sentirci dire e raccontare come sarebbe bello ritornare come prima ma se invece proviamo a costruire un ragionamento un po' più approfondito e proviamo a richiamare anche alcune concettualizzazioni di Mauro Magatti come CSV ci riconosciamo molto nel fatto che abbiamo bisogno di un salto di complessità. Che cosa significa? Significa che non possiamo immaginare di affrontare gli effetti collaterali dell'attuale fase storica rimanendo uguali a prima continuando a fare le stesse cose che facevamo prima senza nemmeno provare in parte a metterle in discussione. E allora di fronte a quanto abbiamo vissuto e a quello che stiamo vivendo di fronte alle complessità di questo momento storico che stiamo attraversando abbiamo spesso visto agirsi nel lavoro con i territori anche nelle comunità locali nel rapporto con le organizzazioni con le reti abbiamo spesso visto agirsi anche delle resistenze a cambiamenti importanti. Per questo crediamo che abbiamo un po' tutti noi compresi come operatori di CSV bisogno di nuovi apprendimenti e di cambiamenti istituzionali ed operativi e quando parliamo di apprendimenti e cambiamenti istituzionali e operativi li immaginiamo maggiormente adeguati al tempo che stiamo attraversando. È per questo che possiamo quindi dirci e riconoscerci attorno al fatto che la formazione di comunità ha la finalità di provare a costruire tutti insieme una cornice di riferimento comune attorno a temi attuali che proveremo a trattare per interrogarci tutti insieme su cosa questo tempo complesso ci sta facendo vedere cosa sta facendo emergere cosa sta mettendo in luce per provare tutti insieme ad interrogarci su come possiamo rireggerlo e meglio comprenderlo abitandolo ma soprattutto per farci interrogare su come possiamo coprogettare e realizzare pratiche che possano contrastare e fronteggiare le disuguaglianze che sono sempre più diffuse all'interno delle nostre comunità locali provando a riconnettere anche il nostro agire con una dimensione un po' più attuale e riflessiva su di noi e sul mondo lavorando molto sul nostro potere di cambiamento anche immaginando di poter mettere in discussione quelle che sino ad oggi sono state le nostre pratiche consolidate entriamo nel vivo della giornata di oggi e con questa slide concludo prima di lasciare la parola Ennio Ripamonti oggi proveremo grazie all'intervento di Ennio ad esplorare e ad attualizzare il tema delle povertà anche nelle sue nuove forme e far emergere come possiamo operare per favorire l'accesso ai diritti dentro dei paradigmi diversi da quelli prettamente afferenti alle forme canoniche di contrasto alla povertà sono due le domande attorno a cui abbiamo chiesto Ennio di provare a costruire il suo intervento e attraverso il suo intervento ad aiutarci ad esplorare questo tema come terzo settore dentro quali campi di investimento e attraverso quali partnership e alleanze strategiche possiamo muoverci e agire di quali lenti ci possiamo dotare per diventare costruttori di un nuovo sistema comunitario per farci carico per quindi per prenderci in carico e anche per restituire fiducia favorendo e sostenendo l'opportunità di una nuova speranza attorno alla vita ecco proveremo ad attraversare questi temi questa questione molto attuale complessa ed interessante grazie all'intervento di Ennio Ripamonti che ringraziamo Ennio è uno psicosociologo e formatore docente a contratto presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e docente segnora alla Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana e anche presidente della Società di Consulenza Metodi a questo punto direi di lasciare la parola a Ennio per cui io interrompo la mia condivisione lascio la parola a Ennio che ringrazio e auguro a tutti voi un buon lavoro a te la parola a Ennio grazie grazie a te Lorenzo mi sentite bene mi confermate che mi sentite bene grazie dell'invito è un appuntamento ci siamo detti ricorsivo a me fa molto piacere è un percorso di collaborazione con appunto CSV Lombardia Sud che dura appunto ormai da alcuni anni quindi per me davvero un grande piacere essere qui poter portare un contributo quando ci siamo sentiti per organizzare questo momento la cosa che dicevo ai colleghi appunto alle colleghe di CSV era io non è che sono uno studioso della povertà la povertà è un fenomeno molto studiato da un certo punto di vista molto studiato in Italia e quindi se il taglio con cui guardiamo questo fenomeno la povertà è prevalentemente socio-economico ci sono altre voci molto più interessanti della mia e c'è molta letteratura su questo però poi ci siamo interrogati e nel titolo che ha già una forma di domanda e quando i titoli diciamo finiscono con un punto interrogativo si obbligano a fare un surplus di riflessione e può sembrare poco ma l'abbiamo intitolato le povertà perché ci sembrava interessante per il mondo del volontariato del terzo settore in una società come la nostra in un paese come il nostro appunto fare un ragionamento su quali sono le forme i modi in cui oggi in questo tempo che ci è dato da vivere si articola si articola dopo in realtà e come diceva Lorenzo che ruolo possiamo avere noi quindi non solo che tipo di ruolo hanno appunto le istituzioni lo Stato le grandi organizzazioni ma anche quali ruoli possiamo avere noi come persone come gruppi come associazioni come mondo del terzo settore ora io provo nel tempo che mi è stato assegnato a condividere con voi dei pensieri che ho fatto e del materiale che ho appunto preparato seguendo questo tipo di filone vediamo se riesco a condividere a condividere il scusate non riesco a condividere non so se Maria tu hai il materiale che ti ho mandato io faccio fatica in Andrespa non hai condividi? sì ce l'ho ma non mi compare sono fuori allenamento adesso negli anni della pandemia erano sempre lì tutti i giorni adesso per fortuna sono fuori allenamento sono contento di essere fuori allenamento però in questo caso ecco si vede? sì perfetto ok allora io proverei a prendere questo tema dal suo versante opposto cioè quando sentiamo la parola povertà ci evoca subito un immaginario che a cui non vogliamo sfuggire non vogliamo sfuggire però io ecco proporrei di guardare il tema della povertà dal punto di vista di un vertice che è quasi opposto cioè noi in fondo si fa volontariato terzo settore servizi eccetera di cosa si occupa di migliorare la qualità della vita delle persone che incontra di contribuire al benessere delle persone che incontra e al benessere della società in cui viviamo ecco quindi io vorrei guardare la povertà come una situazione che intacca la qualità della vita e il benessere poi spiego perché perché la povertà da un certo punto di vista ha un suo lato invece ha appunto sempre avuto un suo lato anche che è stato per secoli fonte fonte di ispirazione non la miseria la povertà ecco magari su questo poi dopo ritorniamo ora qui vedete io ho preso semplicemente e ho appunto riprodotto una definizione di che cos'è la qualità della vita che alcuni anni fa l'Organizzazione Mondiale della Sanità appunto ha proposto che io trovo calzante dice ma che cos'è in fondo la qualità della vita ho visto pochi giorni fa un servizio appunto su Milano in cui mostrava le persone che a Milano faceva facendo fatica a trovare una casa in affitto perché è una delle città ormai più care d'Europa e nello stesso servizio erano interrogati con un giornalismo così anche che enfatizzava queste cose alcune persone dicevano ma insomma se non hai una macchina di un certo livello e non ti vesti appunto in un certo livello qual è la tua qualità della vita quindi la qualità della vita è estremamente soggettiva questo lo sappiamo è una percezione è qualcosa che ha degli elementi oggettivi che dopo vediamo ma è molto legato a come le persone vivono la condizione in cui sono e quindi non c'è un rapporto diretto e lineare per esempio fra questo lo sappiamo fra la ricchezza e la felicità è qualcosa molto più diciamo intricato quindi la qualità della vita è una percezione che le persone hanno di cosa di dove si trovano loro della posizione che hanno nella vita ma però nel contesto nella cultura e nel sistema di valori in cui sono inseriti per cui per un adolescente della periferia magari di seconda generazione è molto importante avere alcuni oggetti che gli stessi suoi coetani hanno oggetti di status a cui noi non attribuiamo appunto un valore spesso sono delle merci sono degli oggetti ma questi oggetti che sia un iphone che sia una felpa che sia un paio di jeans firmati eccetera rappresentano in questo contesto in questa cultura e nel sistema di valori qualcosa che ha a che fare con appunto le aspettative se uno ascolta un po' la musica trap contemporanea se uno si legge i testi di molti di questi trapper fanno continuamente riferimento alla ricchezza fanno continuamente riferimento non solo i soldi ma i beni di status quindi ecco io vorrei guardare il tema della povertà da questo punto di vista come un alterebo del punto del benessere e della qualità della vita per far questo ho provato a vedere quali sono come facciamo a dire se in una società c'è più o meno benessere ecco come sapete per un lungo periodo storico il benessere e la povertà sono stati misurati soprattutto con degli indicatori economici di cui parleremo contano contano sia chiaro ecco però noi sappiamo che l'economia spiega parzialmente il tema della qualità della vita e del benessere e della povertà appunto parzialmente e alcuni anni fa l'ISTAT il nostro istituto di statistica ha dopo una lunga serie di ricerche che sono state portate a livello sono state portate avanti anche a livello internazionale ha appunto proposto queste 12 dimensioni del benessere cioè che cos'è il benessere come facciamo a dire se una società un paese una comunità una persona una famiglia è in condizione di benessere appunto come sapete abbiamo degli indicatori economici per esempio l'ISEE che è quello che serve per accedere a tutti i sistemi di welfare fino a poco fa il reddito di cittadinanza che sarà appunto sostituito da un altro ecco qui queste 12 dimensioni ci aiutano nel loro posto a intravedere secondo me le forme della povertà cioè 12 dimensioni del benessere sono la salute ovvio questo noi tutti lo sperimentiamo e in termini di povertà potrebbe essere non solo le precarie condizioni di salute ma una forma di povertà che comincia ad essere affermata anche sui titoli in punto dei giornali che è la povertà sanitaria cioè a fronte di lo scricchiolare per fortuna nel nostro paese ancora ce l'abbiamo di un sistema sanitario nazionale noi ce l'abbiamo siamo anche in una regione ricca ma tutti sanno che sono sempre più diffusi le forme di povertà sanitaria che cosa vuol dire povertà sanitaria o vivo in un posto dove ho poca offerta sanitaria e devo andare da un'altra parte oppure rinuncio a curarmi per esempio le cure dentistiche sono abbastanza emblematiche se c'è un indicatore chiarissimo la povertà sanitaria ma anche per fare un esempio meno evidente la povertà di cura sanitaria nella salute mentale noi sappiamo che ragazzi bambini adolescenti di famiglie con meno condizioni economiche perché le cure private in ambito di psicoterapia sono molto costose rinunciano a curare la propria salute mentale quindi oggi una forma di manifestazione delle povertà che ci riguardano sono le povertà che ci rimandano al mondo della salute fisica ma anche mentale una seconda dimensione del benessere qui le stiamo leggendo in controruce che ci aiuta a far esplodere un po' il tema le povertà ci riguardano sì attiene il mondo dell'istruzione e della formazione in questo senso negli ultimi anni si è in Italia affermato anche nel nostro paese un'espressione proposta da un'organizzazione non governativa Save the Children internazionale che è la povertà educativa la povertà formativa che non solo riguarda ragazzi e ragazze ma anche giovani e adulti la povertà che ha a che fare con il la come dire la scarsità di percorsi di istruzione e di formazione che noi sappiamo consegnano alcune persone anche ad una condizione di povertà economica cioè per alcune persone alcuni ragazzi alcuni giovani uscire dai meccanismi dell'istruzione significa anche tranne rarissimi i casi e stare in un circuito di povertà economica quindi tra l'altro in quasi tutti gli studi internazionali sulla povertà la strategia più raccomandata è investire sull'istruzione non c'è niente di più potente che l'istruzione nell'agire da contraltare alle forme della povertà quindi una seconda declinazione sono le povertà educative le povertà formative e quindi ci riguardano sono molto interessanti come aree su cui agire come come sistema del terzo settore poi abbiamo come vedete una terza espressione che ha a che fare con la qualità della vita e il benessere che è la conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di vita noi sappiamo per esempio che il fenomeno del lavoro povero working poor fino a qualche anno fa era tipicamente americano appunto l'espressione era tipicamente anglosassone oggi ci riguarda molto più da vicino e quindi il doppio lavoro per esempio quindi lavoro produco ma questo implica una difficile conciliazione con i tempi di vita nella cura dei figli nel ciclo sonno-veglia perché finisco il lavoro e ne faccio un altro molte persone per esempio migranti sono in questa condizione anche qui abbiamo una povertà di una condizione di punto povertà che non è l'assenza del lavoro in questo caso che è un'altra forma ma è la qualità del lavoro ma appunto soprattutto la conciliazione fra i tempi di lavoro e dei tempi di vita il quarto punto è il benessere economico quindi un certo standard relativo al contesto in cui si vive facevo l'esempio degli affitti di Milano perché hanno fatto varie varie trasmissioni televisive in cui intervistano l'altro giorno ho visto l'intervista con un insegnante di scuola superiore di Napoli che va e torna no? fa una sola sera a Milano e ha questa appunto questa supplenza e va e torna gli costa di meno andare e tornare con il treno che trovare un buon locale a Milano quindi il benessere economico e come sapete qui è forse il tema su cui la parola povertà è più chiara in cui gli indicatori sono più chiari di povertà assoluta di povertà relativa e quindi non mi soffermo perché non perché non sia importante anzi ma è la povertà economica è anche quella più intuitiva da rappresentare il quinto punto trovate una povertà che ha a che fare in questo caso espressa in termini di benessere di relazioni sociali e qui siamo nel cuore del mondo nel nostro mondo se in termini positivi una poi su questo ritorneremo una certa quantità e qualità di un punto di relazioni sociali è correlato al benessere questo lo sappiamo tantissime ricerche lo hanno dimostrato al contrario la povertà relazionale espone a rischi di sofferenza di malessere di disagio quindi c'è una forte correlazione negli ultimi anni sapete che gli studi tutti gli anni viene viene sempre pubblicato un rapporto di Caritas che è molto ascoltato che si basa non tanto su aspetti solo di tipo statistico socio-economico ma la banca dati dei centri d'ascolto della Caritas poi citerò qualche esempio quindi persone incontrate in carne e ossa non solo statistiche la correlazione fra povertà economica e povertà relazionale è sempre più chiara cioè la condizione di povertà relazionale diciamo espone a dei rischi di povertà economica e i poveri contemporanei sono sempre più soli con poche relazioni questo è un dato ormai che emerge con grande chiarezza vado rapido sugli altri punti politica istituzioni vuol dire essere in un contesto in cui c'è democrazia c'è accesso al punto ci sono delle istituzioni ed è sono delle istituzioni democratiche il nostro paese è ovviamente un paese che ha delle istituzioni democratiche ma come sapete e come evidente non è uguale in tutte le sue parti ci sono persone che vivono in contesti di povertà democratica di povertà istituzionale in contesti dove c'è un forte tasso di corruzione dove le istituzioni sono infiltrate dove c'è questo non è qualcosa che non c'entra con il nostro tema certo che questo riguarda di più alcune regioni alcune aree del paese ma anche alcuni comuni dell'Inter la milanese sono stati sciolti per mafia per infiltrazione certo che non ci viene in mente la parola povertà ma il benessere di una politica sana e di istituzioni sane rappresentativi il bassissimo la bassissima percentuale di persone che hanno votato alle ultime elezioni regionali suona un campanello d'allarme da questo punto di vista secondo me e quindi abbiamo anche dei fenomeni di povertà di rappresentanza politica di rappresentanza di cittadinanza su cui interessante riflettere la sicurezza ha a che fare con la qualità della vita ma al contrario ci sono contesti dove la sicurezza è precaria dove posso vivere in contesti pericolosi soprattutto se sono se sono una donna se sono una persona vulnerabile quindi anche qui troviamo degli elementi che ci aiutano a far esplodere il tema benessere soggettivo e qui c'è tutta la dimensione più come dire psicologica del rapporto appunto con se stessi che ha a che fare quindi ci sono persone che vivono oggettivamente le stesse condizioni di precarietà di salari insufficienti e di fatica ma come dire riescono a sviluppare una forma di resilienza altre persone stanno male e quindi producono in cui la povertà di qualche altro tipo appunto produce anche una sofferenza c'è anche una povertà che riguarda il paesaggio il patrimonio culturale una povertà proprio vivere in una periferia degradata circondata da ambienti brutti circondato da bruttezza circondata da o vivere in un luogo con un ambiente curato fa la differenza sia in qualità della vita e in benessere l'impatto positivo quindi da un certo punto di vista una certa povertà economica in un contesto però che è più ricco dal punto di vista paesaggistico culturale compensa anche se non sostituisce e al contrario diciamo la desolazione la povertà proprio paesaggistica di alcuni ambienti e di alcuni contesti tipicamente nelle grandi aree urbane su questo anche qui abbiamo degli studi sul rapporto fra queste dimensioni e il benessere o il malessere da ultimo vedete l'ambiente anche qui abbiamo in questo momento crisi che appunto riguardano l'ambiente la crisi idrica per esempio quindi abbiamo una povertà di risorse che può riguardare maggiormente persone e si parla a livello globale di poveri e anche di migranti climatici ambientali io posso vivere in un contesto che diventa sempre più vivibile non è il nostro caso oggi qua però sicuramente la qualità dell'ambiente in cui si vive oppure pensate banalmente a vivere in un contesto con un alto tasso di inquinamento spesso le persone che vivono in condizioni di maggiore marginalità vivono anche in contesti che sono maggiormente degradati da un punto di vista ambientale e da ultimo vedete povertà nel senso della ricerca dell'innovazione oppure della qualità dei servizi vivono in un contesto con pochi servizi ecco ho pensato di proporre questo per far esplodere il tema della povertà e di diciamo vederla in modo un pochino più panoramico e quindi ognuno potrebbe soffermarsi adesso io andrò andrò rapido vado avanti non voglio soffermarmi su questo ma sicuramente la povertà economica è forse quella che riusciamo a visualizzarci con più chiarezza ma sono molti fattori le forme di povertà che ci riguardano ma che cosa succede con i poveri contemporanei ora qui io ho provato a prendere alcune frasi scritte da alcuni studiosi in questi ultimi anni perché la cosa che è successa diciamo da una trentina d'anni a questa parte sempre di più diciamo a partire dalla metà degli anni 80 poi con gli anni 90 è che la povertà è sempre più diciamo rappresentata in forma statistica ma è inafferrabile da un punto di vista cioè mentre abbiamo avuto volete anche non so facciamo l'esempio di un paese povero come l'Italia nel dopoguerra ecco le storie dei poveri del dopoguerra hanno prodotto il neuralismo cioè se uno si guarda Chouchard se uno si guarda il cinema di De Sica di Pasolini sono storie di riscatto o si legge i romanzi che ne so di Moravia di Pasolini quindi cioè in qualche misura l'uscita dalla povertà la conquista di una propria emancipazione aveva dietro una narrazione aveva dietro una cultura ecco che oggi non c'è più cioè la condizione di povertà è inafferrabile è solo rappresentata da un punto di vista statistico e le storie dei poveri alla fine non interessa più nessuno sono al contrario hanno molto successo a me è capitato di vederlo qualche anno fa mi hanno suggerito di vedere una forma televisiva che si intitola Riccanza Riccanza che è la storia dei figli dei ricchi la storia di quindi come dire si è le storie che vogliamo sentire oggi o che sono raccontate sono le storie di successo sono le storie dei ricchi sono le storie dei belli sono le storie quindi in qualche misura e qui c'è questo articolo di Berger che è un famoso scrittore che dice collettivamente i poveri sono inafferrabili oltre a essere la maggioranza del pianeta sono dappertutto e anche il più piccolo l'evento parla di loro ecco perché oggi l'attività fondamentale dei ricchi è costruire muri muri di cemento sorveglianza elettronica sbarramenti di missili campi minati controlli di frontiere schermi opachi dei mezzi di informazione cioè le storie vanno in oggi il tema della povertà è contenerla dissimularla non renderla visibile cercare di oppure diciamo ridurla a pura statistica non so come dire questo è un elemento questa condizione invece di quotidianità di quella forma di quanto la povertà economica intacca gli elementi che abbiamo visto prima sono state invece oggetto per secoli della letteratura qui ho preso un pezzo appunto di un romanzo di Annie Ernaud scrittrice francese che l'anno scorso nel 2002 è stata insegnita il premio Nobel della letteratura e che è famosa per questi romanzi autobiografici biografici in cui c'è una descrizione minuziosa della vita quotidiana lei è figlia di una coppia impoverita della provincia francese e c'è questa descrizione che io ho trovato molto molto calzante meno soldi si hanno più la spesa richiede un calcolo minuzioso senza errori un lavoro non contabilizzato ossessivo che assorbe completamente migliaia di donne e di uomini l'inizio della ricchezza della sua leggerezza si può riassumere così servirsi in un reparto di prodotti alimentari senza guardare il prezzo l'umiliazione inflitta dalle merci costano troppo quindi io non valgo niente io trovo che questo sia oggi potentissimo in un'epoca in cui la povertà è anche non poter accedere ad alcune merci e non è solo il cibo è proprio un sistema simbolico perché se io non accedo perché questa potrebbe essere la povertà dei miei nonni ma la povertà dei miei nonni era avere la carne almeno una volta al mese il sale era di un paese povero e qui la povertà quando entri in un grande supermercato è invece l'orgia dei cibo come dire lo spettacolo seduttivo delle merci che non sono alla mia portata ci sono degli esempi per esempio di alcune persone che rubano nei supermercati delle merci di status e chi dice non è che ha rubato il pane per mangiare si è preso la cosa sfiziosa ma perché si è preso questa cosa sfiziosa perché il non accedere a quelle merci significa non accedere non solo a quell'oggetto ma anche un'immagine di me perché le merci infliggono qui ci dice Nier no infliggono un'umiliazione e quindi la povertà si misura in questo io lo trovo molto potente questo tipo di immaginario di recente proprio l'anno scorso questa sociologa Antonella a me ha scritto questo libretto questo libro molto bello molto anche se un po' inquietante da un certo punto di vista che si intitola disciplinare i poveri perché se è vero che la povertà aumenta quantitativamente anche se è appunto circoscritta una certa percentuale appunto sono percentuali non sono persone quello che può quello che sta succedendo in questo momento storico come ci ha detto Berger è che viene rappresentato prevalentemente come un problema da risolvere quindi è privato di qualsiasi soggettività è un problema da risolvere quindi i poveri come persone sono soggetti da gestire e da governare per cui per esempio dice appunto Antonella a me che le forme di sostegno alla povertà anche sono piene di regole in cui ti dicono cosa puoi comprare cosa non puoi comprare questo sì questo no che seppur in teoria dovrebbero rispondere ad un principio di efficacia ed efficienza in realtà hanno dentro un diciamo uso un'espressione un po' forte un segreto disprezzo ecco è come se in fondo queste politiche contengono un segreto disprezzo perché la povertà non ha niente da dirci non è non ha niente a che fare con Buddha non ha niente a che fare con Cristo non ha niente a che fare con San Francesco siamo in un'epoca in cui la povertà anche nella sua forma appunto se volete di sobrietà è come se non avesse più niente da dirci come esseri umani ecco quindi qui c'è anche una questione se me la concedete quasi quasi filosofica quindi quello che noi dobbiamo appunto guardare è la vita dei ricchi è lì sì che e quindi infatti i diciamo i rotocalchi quando accompagno mia madre a fare la spesa c'è questo enorme appunto in questo supermercato pannello pieno di rotocalchi e vendono tantissimo scoperto appunto questi rotocalchi e raccontano la vita meravigliosa dei ricchi di quelli che hanno successo e questi rotocalchi da chi sono letti prevalentemente dai poveri ecco e quindi trovo in questo qualcosa su cui noi abbiamo bisogno di riflettere tutti noi abbiamo bisogno di riflettere vado verso la parte se volete più appunto canonica cercherò di stare nei tempi vedete gli argomenti si presta ora questo ve la consiglio si scarica facilmente da internet è l'ultimo l'ultimo rapporto che ha fatto Caritas Italiana quello che dicevo prima Caritas Italiana è un assolutamente una delle realtà che tutti gli anni sforna questi questi rapporti sulla povertà e sull'esclusione sociale vedete che due fenomeni e qui troviamo alcune cose interessanti da un lato qualcosa che noi sappiamo un fenomeno che cresce questo lo sappiamo sappiamo che cresce però vedete percentualmente fra i lavoratori questo è molto quindi che aumenta il fenomeno del lavoro povero quindi non della povertà del lavoro ma del lavoro povero quindi io lavoro ma non ce la faccio è un fenomeno che ha dei suoi profili che sono abbastanza chiari per esempio vedete la correlazione fra povertà e bassi titoli di studio la prevalenza nel nord di persone migranti o nel sud invece aumenta la percentuale invece appunto di persone italiane molti hanno figli piccoli vivono in abitazioni in affitto la casa è uno dei beni che maggiormente ha a che fare con questo tema c'è un aumento dei lavoratori poveri ecco questo per dare un quadro se volete sempre correlato a questo tema trovo che sia interessante in questa ricerca e in altre la questione della intergenerazionalità cosa vuol dire qui ho preso una frase tratta da Pinocchio di Collodi vedete in un'Italia poverissima poverissima quella della fine dell'Ottocento che è una frase tratta da questo capolavoro della nostra letteratura che viene raccontata come letteratura per l'infanzia in realtà è una grandissima narrazione di un paese quindi mangia fuoco chiama in disparte Pinocchio e gli domandò come si chiama tuo padre Geppetto e che Mastiere fa il povero guadagna molto guadagna tanto quanto ci vuole per non aver mai un centesimo di tasso quindi questo fenomeno del working poor che ha diciamo caratterizzato dalla rivoluzione industriale in poi e tuttora appunto caratterizza tanti luoghi nel mondo quindi questa narrazione del povero sfaccendato e fa nullone spesso il povero è la persona che guadagna tanto ma non ha mai un centesimo in tasca questo è il paradosso guadagna tanto nel senso che deve mettere tanto lavoro per produrre qualcosa che non gli basta per me ecco questa è una condizione che nelle forme contemporanee si ripresenta con il lavoro povero il geppetto contemporaneo probabilmente è un lavapiatti un rider un barman che noi incontriamo la sera o che pulisce piatti in qualche ristorante quindi in questo rapporto si evidenzia il fenomeno intergenerazionale della povertà cioè le povertà tutte le povertà hanno la caratteristica e questo per noi è un monito di passare da padre in figlio come tra geppetto e Pinocchio purtroppo chi fa chi lavora in un centro Caritas chi fa l'assistenza sociale spesso vede il cognome e si ricorda che già il papà o addirittura il nonno chiedeva una mano e quindi siamo dentro questo tema della intergenerazionalità e proprio questo studio di Caritas ha focalizzato che cosa che cosa fa in modo che le persone non riescono a uscire dal circuito di quell'intreccio di varie povertà e addirittura i figli o i nipoti restano impigliati in questa maglia e vedete in questo schema prodotto da una delle curatrici questo non è farina del mio sacco cito la fonte perché ho trovato che sia un bellissimo lavoro molto chiaro molto semplice al succo vedete che c'è un intreccio fra la povertà educativa bassa istruzione ho lasciato la scuola mi sono disperso non ho raggiunto il titolo faccio lavoretti povertà lavorativa sì lavoro ma guadagno pochissimo faccio un lavoro intermittente precario sottopagato da cui povertà economica ricevo un salario però che non è all'altezza delle situazioni fattori contestuali e certo dipende dove sono che contesto familiare ho siamo in un'epoca di un certo individualismo di sfiducia nelle istituzioni magari c'è anche una certa povertà culturale la condizione di povertà è anche qualcosa di cui mi vergogno per i motivi detti detti prima e questo impatta la psicologia la stima che ho di me si abbassa nei confronti di mio figlio mi sento un fallito e quindi ho sfiducia ho un senso di frustrazione non vedo viene uscita ecco questo meccanismo è un meccanismo che noi troviamo non solo nei poveri economici più conosciuti ma in quella che da alcuni anni anche con un'espressione un po' impropria sono stati chiamati i nuovi poveri cioè il ceto medio qui ho riportato tre storie che ho estratto da un lavoro che mi è capitato di fare con la Caritas di Cuneo in cui hanno raccontato come Caritas aveva lavorato con i servizi sociali con alcune persone per esempio qui vediamo una signora di mezza età che ha una sua attività lavorava al mercato ambulante e che sono tutte storie covid o post covid che con l'avvento del covid si è fermata e quindi non avendo avuto la possibilità di compensare questi mesi è entrata in un meccanismo abbastanza tipico quindi comincia a non pagare latari e poi dopo comincia a non pagare altre tasse non paga la tassa dei rifiuti eccetera e quindi c'è un intervento in cui si cerca di aiutare una persona che ha un lavoro che ha una sua vita una sua famiglia ma che è un evento un evento però fa diciamo saltare questo equilibrio ecco oppure un'altra signora un'imprenditrice anche qui che è fermata da qualcuno che ha una sua attività un piccolo negozio in un paese di provincia è che anche qui la crisi economica l'aumento dei costi storie che abbiamo sentito e però sono persone che non sono tipicamente le persone che da una generazione all'altra sono entrato sono prese come si suol dire con un'espressione non molto felice prese in carico dei servizi qui sono persone di un cento medio lavoratrici eccetera ecco e da ultimo vedete il reinventarsi una vita in questo caso una persona migrante e questo è un altro caso abbastanza frequente la fragilità dei legami che porta a una che ne so appunto una separazione in questo caso con un figlio e quindi separarsi con un bambino piccolo per tifasce di popolazione espone a un grande rischio quindi c'è un intreccio di povertà relazionale della povertà appunto psicologica quindi qui ho appunto riportato un piccolo eletto poi dopo incontrerete anche Gino Mazzoli che da tempo studia questi fenomeni noi sappiamo che abbiamo a che fare con fenomeni ormai da qualche anno dopo il covid ancora di più quando parliamo di povertà di cento medio impoverito quindi persone non abituate a far fatica ad arrivare alla fine del mese che non rientrano nemmeno plasticamente perché sono sopra la soglia Isee nelle misure come reddito di cittadinanza oppure questo nuovo che stanno costruendo mia magari che hanno una casa di proprietà un lavoro anche perché hanno un titolo di studio e dove però magari hanno costruito uno stile di vita che era quello di accedere ad alcuni beni di status le vacanze magari la macchina il garage eccetera eccetera e che però hanno una povertà di reti familiari e sociali e che vengono magari impoveriti da vari eventi una crisi economica il covid piuttosto che altri aspetti e quindi con sentimenti che sono dalla vergogna a risentimento ecco questo è un qualcosa oggi vado verso la conclusione per dire ma allora noi cioè chi non si occupa professionalmente di politiche di contrasto alla povertà uno fa l'assistenza sociale fa lavora nei servizi e quindi conosce le misure che via via nelle politiche pubbliche eccetera ma come si diceva prima ma che ruolo ha il terzo settore l'associazionismo il volontariato allora allora qua secondo me il cuore di questa faccenda io lo vedrei nel mitigare un fenomeno che è molto molto diciamo appunto importante che è l'isolamento e la solitudine cioè le crisi nei percorsi in contesti magari dove c'è già una certa povertà si fa fatica insomma una certa povertà economica oppure culturale oppure ambientale o di tipo sanitario che abbiamo visto prima ecco qui noi sappiamo che l'isolamento che è una condizione oggettiva essere isolati vuol dire non intrattenere pochi contatti sociali ma noi sappiamo che la cosa più forte è il sentimento della solitudine quindi sentirsi soli quando si è in una condizione di povertà di salute di denaro di risorse di legami espone a un dolore che possiamo chiamare così proprio dolore sociale che diminuisce la capacità appunto di reagire quindi si entra in una spirale di tipo involutivo quindi noi sappiamo che c'è una correlazione le ricerche l'hanno dimostrata fra solitudine povertà e salute sia mentale che fisica quindi ci si ammala quindi aumenta il livello di vulnerabilità quindi la capacità di autoregolare le emozioni si attenua e le appunto le aspettative e le rappresentazioni mentali mutano e quindi qui abbiamo proprio una correlazione per questo motivo e vado verso la parte conclusiva noi possiamo secondo me tessere legami facendo quello che facciamo già ma diciamo rinforzando le reti di sostegno intorno le persone in difficoltà quindi non solo nella forma dell'aiuto economico in senso stretto che è comunque necessario ma è molto molto importante attenuare gli effetti negativi dello stress in molte di queste ricerche appare evidente che la persona dice ho sentito intorno a me una comunità mi hanno aiutato in un momento di difficoltà ho riguadagnato fiducia in me stessa o meglio adesso ce la fa ecco questo tessuto era un tessuto che nell'Italia del dopoguerra con molti poveri si generava quasi automaticamente nelle famiglie larghe nei quartieri nelle periferie e oggi non si genera automaticamente anzi è proprio l'opposto quindi in qualche misura il terzo settore oggi è diciamo una degli attori maggiormente coinvolti io ho tutta la fortuna di partecipare all'evento che è stato fatto appunto a Firenze da da CSV Net in cui è stato presentato il documento a cui ci si riferiva prima di cui parlava la Presidente prima io trovo che il ruolo di agente di sviluppo locale dei centri servizi di volontariato ha fra le varie dimensioni anche questa dimensione cioè potenziare le reti di sostegno intorno alle persone con vulnerabilità che hanno povertà di qualche tipo che si intrecciano fra di loro qui vedete c'è un esempio sempre Istat che dice che ci dice quali sono le forme di aiuto che si possono appunto generare il sostegno sociale e su questo concludo quindi tessere reti di sostegno sociale vuol dire che intorno alla persona attraverso un'attività di gruppo attraverso l'ascolto attraverso i colloqui attraverso le visite domiciliari attraverso il coinvolgimento in un'attività anche di tempo libero di socializzazione soprattutto se è una madre separata con un bimbo è un padre separato magari in condizioni cioè tutta quella serie di persone che non sono già in una condizione conclamata ma sono in un'area di vulnerabilità ecco credo che oggi questo sostegno sociale che nelle società del passato più povere magari ma ricche di relazioni veniva generato oggi vada prodotto vada proprio prodotto progettato sviluppato costruito attraverso varie iniziative e che intorno quando c'è insomma questa forma di sostegno sociale che vedete si manifesta sia in un sostegno emotivo comprensione simpatia amore incoraggiamento strumentale ti do una mano in questo momento di difficoltà ti do anche proprio delle risorse materiali oppure valutativo ti do una mano prendere una decisione o informativo ti segnalo delle risorse che tu puoi avere perché come si diceva prima nel circuito della povertà delle povertà mi posso trovare in una povertà informativa cioè potrei accedere a una risorsa ma non lo so non leggo non mi informo non guardo su internet che cosa è uscito oppure prendo decisioni che non sono ben ponderate o sono solo dal punto di vista emotivo ecco quindi le reti di sostegno sono questo non sono solo una dimensione squisitamente psicologica sono una dimensione emotiva strumentale valutativa e informativa e le reti di sostegno sociale sono secondo me oggi ampiamente il focus su cui si può ingaggiare oggi un'organizzazione di volontariato o un ente del terzo settore ecco io mi fermerei qui sono stato anche un po' lungo e mi scuso mi fermerei qui e vediamo se c'è un interesse a interloquire insomma adesso interrompo anche la condivisione grazie 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 di questo tuo intervento molto preciso dettagliato emozionante anche molto chiaro per cui coglierei la sollecitazione di Ennio e direi che possiamo aprire questo momento libero dove se qualcuno ha voglia di far delle domande o di chiedere degli approfondimenti o di portare il proprio punto di vista possiamo prenderci pure del tempo per farlo vi chiederei cortesemente di segnalarvi alzando la mano basta cliccare sull'iconcina che trovate in alto con scritto mano per prenotare il vostro intervento daremo spazio a due o tre domande e poi daremo spazio a Ennio per le risposte dopo aver raccolto due o tre domande e proseguiamo così vedo che abbiamo già una prima richiesta per cui lascerei subito la parola a Graziella a lei Graziella buonasera scusa un attimino Graziella togli che c'è ancora una condivisione io c'ho una condivisione preso di stop ok grazie perfetto prego Graziella sì grazie brevemente intanto grazie io sono una consigliere comunale di minoranza però in passato sono stata anche assessore ai servizi alla persona e ho riconosciuto diciamo in alcuni degli interventi che insieme ad alcuni enti del terzo settore avevo portato avanti proprio nella direzione di si parla tanto di presa in carico delle persone fragili però non soltanto dal punto di vista economico ma con una visione proprio di insieme nel tentare di gestire i loro problemi la cosa su cui chiedo ecco magari qualche spunto in più riguarda il modo in cui generalmente vengono erogati i contributi alle famiglie in difficoltà che si rispecchia molto in quello che si diceva cioè tentare di gestire disciplinare il modo in cui le persone poi possono utilizzare queste risorse che vengono date generalmente vengono date per pagare le bollette o per far fronte a queste situazioni ma sono veramente piccole cose che che danno un po' l'impressione di 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 far di tenere legati di tenere legati questi nuclei familiari fragili con una con una corda di dipendenza dai comuni ai quali poi si rivolgono l'altro aspetto che secondo me è molto interessante riguarda il tema del volontariato e del terzo settore per l'esperienza che mediamente io vivo in un paese di poco più di 5.000 persone che è anche un tessuto ricco di associazioni di volontariato ma l'impressione che ho è che in generale chi decide sempre meno in verità perché questo è un grosso problema di dedicarsi al volontariato sono ecco sono generalmente persone più strutturate persone anche con un buon livello culturale mentre non vedo partecipare proprio le persone più fragili e allora mi sembrava molto interessante questo aspetto per trovare delle strategie al fine di coinvolgere proprio queste persone che restano ai margini e farle sentire utili all'interno di questo mondo dell'associazionismo per superare anche la difficoltà di chi dice ma io sono una persona che ha bisogno di avere non una una persona che ha bisogno di dare non ho tempo di dare non riesco a dare perché sono io il primo ad avere bisogno ecco mi piacerebbe provare a cioè che si trovasse anche la chiave per far entrare in questo mondo e sarebbe come dire sicuramente un aiuto da un lato a chi a chi ha questo problema di non trovare volontari ma dall'altro sarebbe davvero un bel modo per far sentire queste persone molto più utili e ridare loro quella soprattutto quella fiducia in se stessi che come avete illustrato benissimo perdono a causa di queste di questo come dire incrociarsi di diversi tipi di povertà perché poi sono tutte davvero molto correlate e difficili da difficili da superare soprattutto dal punto di vista psicologico cioè persone che si sentono comunque troppo fallite per poter pensare di essere utili a qualcun altro grazie 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 a lei se c'è qualche altro intervento sì c'è una domanda in chat prego la leggi tu Mary sì non so se almeno che voglia leggerla Livia ok no come faccio a chiedere aiuto se sono solo col mio problema e forse non lo riconosco neanche a me stesso cosa spinge i soggetti bisognosi a contattarvi ok grazie anche a Livia per questo suo intervento sulla chat vedo che c'è che si è prenotato anche Fabrizio quindi lascerei la parola a Fabrizio e poi lascerei spazio Ennio per le prime risposte concordo mi sentite bene bene concordo la relazione introduttiva di Ennio ma vorrei chiedere Ennio tu hai parlato molto di povertà ho sentito parlare poco di sfruttamento ho sentito parlare della gente che fa fatica a reale fine mese ma come vengono distribuiti certe persone che lavorano secondo me alcuni ricchi i ricchi sfruttano la povertà per diventare più ricchi non so se mi hai capito se sono stato chiaro grazie Fabrizio sei stato chiarissimo facciamo la parola mi ha molto colpito dice no ma guardate che la guerra fra i ricchi e i poveri è finita e i ricchi l'hanno vinta io trovo questa nella sua brutalità questa espressione di Hobson centrale cioè adesso fuori di metafora cioè è chiaro che questo tema della ricchezza e della povertà io non ho voluto impostarle in quel modo chiama dentro anche una dimensione di sfruttamento non c'è dubbio per esempio c'è un sociologo italiano o Luca Ricolfi che ha pochi anni fa scritto un testo che si intitola La società signorile di massa intitola così e dice lui ma in luce queste caratteristiche dell'Italia proprio contemporanea dice quello che conta è ormai oggi chi può fruire della ricchezza accumulato dai padri o dai nonni ma non delle grandi ricchezze anche la casa di proprietà cioè avere una casa di proprietà della nonna in un quartiere di Milano e non fare 25 anni di mutuo è una bella differenza quindi questa è la società signorile di massa quindi questo è una forma di lavoro che lui definisce paraschiavistico lo definisce così è un lavoro paraschiavistico non è schiavistico però ci si avvicina parecchio perché ha delle caratteristiche perché sono lavori basati sono servili di servizio di servitù di servitù chiaro che poi nella narrazione di quando uno si prende il globo si porta a casa la pizza mica si sente però quindi che ci sono che il fatto come dici tu che ci sono che c'è la dimensione dello sfruttamento questo questo mi pare evidente io non volevo metterla così perché prende una forma il nostro confronto in cui ci si misura anche sull'impotenza perché qual è il nostro grado di influenzamento di questo fenomeno purtroppo abbastanza lo dico purtroppo anche per il sindacato oggi è molto sulla è molto sulla come dire sulla difensiva questo sì ecco l'altra cosa ecco la persona che ha scritto non ho capito intanto chi si riferiva però invece quello che diceva Gabriele Invernizzi che ha una doppia esperienza molto interessante perché fare quando uno fa responsabile dei servizi sociali o l'amministratore in un piccolo comune c'è in mente proprio la faccia della signora del signore cioè è quello che dicevo prima la povertà narrata con le grandi statistiche o incontri la persona in carne e ossa ecco noi abbiamo una tradizione nel bene o nel male noi intendo dire l'Italia noi abbiamo questa tradizione che ha un volto bello e un volto invece un po' meno nobile cioè noi siamo un paese che ha avuto un grande welfare basato anche sul ruolo molto forte dell'assistenza noi siamo abbiamo un welfare molto molto di questo tipo a differenza di altri paesi che hanno altre culture molto più alcuni associano questo ai paesi del sud Europa cattolici e al paese del nord Europa protestanti però al di là di questa cosa quindi per noi anche nella dottrina sociale della chiesa l'aiuto a una persona povera è anche fra le altre cose non è solo un compito dello Stato ma per chi crede o chi ha anche una dimensione spirituale fra l'altro non è una cosa da poco da un senso alla fede ecco però quindi questo è molto bello meno male che resiste ancora questa cosa qui perché ci sono società molto più individualiste da questo punto di vista dove non hai neanche il Don Antonio che ti dà una mano o la Sciura Teresa della Caritas che ti dà il sacchetto per capirci penso proprio a luoghi dove non hai questa dimensione però l'altro versante un po' meno su cui fra l'altro lo stesso Papa insiste molto sono i limiti di una degenerazione dell'assistenza che è l'assistenzialismo che è molto studiato è stato molto studiato l'assistenzialismo che cos'è l'assistenzialismo è una forma di aiuto che anche in buona fede congela l'assimmetria di rapporto che cosa vuol dire che io come dire ti aiuto e mentre ti aiuto in qualche misura faccio una cosa bella sia chiaro faccio una cosa buona ma in qualche misura questa assimmetria mi gratifica e non mi pongo il problema della tua emancipazione questo è quello che ha studiato un premio nobile dell'economia Amartya Sen ha studiato questo come si esce dal circuito della povertà con gli studi sul micocredito per esempio è piuttosto che assistere promuovere cioè dare dei prestiti che sono relativi a un'attività quello che diceva Gabriele è vero alcune persone proprio perché si sentono mi sono scritto una frase troppo fallita per poter far qualcosa il punto di partenza è questo però lo dico in senso positivo in Italia ormai sono molte le sperimentazioni sono veramente tante di welfare generativo cioè in cui l'operatore l'operatrice sono state sperimentate ormai da alcuni anni alcune hanno anche fatto scuola in Piemonte ce ne sono molte appunto di servizi sociali in cui non con tutte le persone dipende con cui sto parlando però propongo propongo oltre io come dire io ti aiuto io ti sostengo sono al tuo fianco ti accompagno però dammi una mano il pomeriggio a mettere a posto i libri in biblioteca dammi una mano giovedì con i bambini che ci sono queste vanno un po' pensate personalizzate e io ho proprio conosciuto ho fatto un incontro un focus group con alcune di queste signore che avevano partecipato a questi programmi di welfare generativo che avevano notevolmente mutato l'immagine di sé e avevano significativamente mutato la percezione della propria autostima proprio quella roba lì sono troppo fallita per poter evitare per poter fare qualsiasi cosa io posso solo essere assistita non posso fare altro non sono capaci di fare niente questo lo dicono anche i ragazzi in povertà educativa tanto a me li bocciano cosa studio a fare cioè come se fosse un destino segnato ecco quindi la nostra fatica è anche con le persone che sono così provare a mettere in campo meccanismi di questo tipo con pazienza personalizzandoli uno per uno non sono uguali uno per tutti però punto ripeto le sperimentazioni ormai sono abbastanza diffuse per esempio queste frasi che ho citato sono prese da un'esperienza che hanno fatto in provincia di Cuneo finanziate da una fondazione della provincia di Cuneo una collaborazione fra i servizi sociali comunali piccoli comuni della provincia e la Caritas quindi con ogni persona veniva pensato un percorso dove c'era un patto di collaborazione allora io ti chiedo a te che fai questa cosa allora dai una mano a quella mamma quando accompagni il tuo figlio accompagna il figlio di quell'altro cioè questi meccanismi che un po' sono appunto di restituzione ma sono soprattutto per rompere questa narrazione di sé che è che è tremenda perché non esci da quella roba lì poi dopo si struttura tuo figlio o tua figlia respira questo tuo fallimento e tu ne hai vergogna e a volte lo replica quindi secondo me è una è una consapevolezza che abbiamo oggi fino a anni fa non era così e ci sono delle esperienze che appunto dimostrano che si con pazienza cambiando la cultura dell'assistenza e cercando di adeguarla al mondo in cui siamo all'epoca in cui siamo si possono creare dei meccanismi emancipativi ecco chiamiamoli così grazie ci sono altre domande o altri quesiti ecco Luisella prego Luisella ti lasciamo la parola grazie no io mi riferivo un po' alla domanda che era stata messa in chat ho preso gli appunti non so io la intendo così cioè come si fa rispetto al problema che hanno spesso anche i servizi sociali dei comuni e anche le associazioni di andare a intercettare quelle persone che poi che hanno questo bisogno no perché adesso appunto ne avevamo ne avevamo parlato forse anche in altri contesti c'è anche questa questione che molti appunto perché non rientrano magari in alcune categorie non hanno l'accesso ai servizi sociali del comune ma che comunque si trovano in difficoltà credo che forse era questo un po' il senso della domanda chi può intercettare quello che prima anche Ennio dicevi nuovi poveri no queste forme di povertà dovute anche non solo a perdita del lavoro situazioni magari che prima non c'erano di alcune famiglie ma che poi si sono invece evidenziate ecco magari anche su questo tema probabilmente il ruolo delle associazioni dei volontari delle persone che comunque vivono la comunità in questa dimensione come la nostra o il terzo settore possono andare a intercettare anche questa fascia di bisogno sommerso chiamiamolo così che è molto più diffuso penso rispetto alla percezione che noi ne abbiamo dico una cosa per oggi stavo tornando a casa sono andata a fare due passi perché avevo voglia di sgranchirmi la testa come dico io e ho notato che all'uscita di scuola era il momento che uscivano tutti di scuola ogni genitore mamma così ha preso con grande velocità la strada di casa prendono il bambino e vanno vanno ognuno per sé mi ha fatto un po' un po' specie perché c'è comunque una vita che ti porta a quasi a evitare dei luoghi anche naturali dove poter scambiare due parole perché a volte spesso in contesti anche meno strutturati e parlando e dialogando con l'altra mamma o col vicino magari possono emergere anche questi tipi di bisogni no? difficilmente una che ha un bisogno va direttamente al centro d'ascolto al no? magari prima si confida con qualcuno so che è un esempio banale però giusto per parlare di relazioni mi sembrava perché mi ha fatto un po' un po' impressione no? questa cosa di questo andarsene ognuno tornare subito per conto suo a casa sua quindi ci sono anche pochi luoghi dove magari queste relazioni potrebbero essere coltivate ecco mi viene da dire grazie Luisella lascerei visto che si sono pronotate un po' di persone adesso la parola vado per ordine ad Anna Maria allora sto cercando di attivare la videocamera ma è lo stesso anche se non mi vedete ecco ciao ciao volevo intanto ringraziare ovviamente il dottore Pamonti e volevo focalizzare attenzione su quella bellissima frase i poveri sono inafferrabili i poveri sono invisibili e aggiungerei dobbiamo attivare i nostri occhi per vederli perché a volte c'è proprio la difficoltà nel farsi vedere e racconto una cosa che stamattina proprio è capitata abbiamo un emporio un emporio di solidarietà e le persone telefonano per prenotarsi però noi accettiamo anche compatibilmente con la disponibilità di tempo anche chi passa e vede aperto l'emporio però è successo questo che ci ha mandato un messaggio a una signora dicendo ma è possibile acquistare a prezzo agevolato perché io non mi sento di prendere cose che magari altri di cui altri avrebbero più bisogno però ho quattro figli e acquistando anche a prezzo agevolato allora noi per statuto abbiamo deciso di non acquistare di non prendere soldi di non dare e quindi chi riceve le telefonate mi interpella interpella me perché sono così responsabile dell'ascolto e delle relazioni ma cosa rispondo a questa qui perché mi spiace dirle di no e allora a me è venuta questa intuizione ho detto guarda tu prova a scriverle così siamo liete di donare ciò che altri ci hanno donato ad una famiglia tanto generosa da dare la vita a quattro figli ti aspettiamo perché ho detto magari questa qui si vergogna a dire sono in una situazione di però nello stesso tempo dopo tre minuti si ha risposto vengo vengo allora ditemi quando posso venire allora occorre io penso intercettare la povertà saper leggere anche dietro un io non ne ho bisogno ma non voglio togliere ad altri e invece questa qui evidentemente ne aveva bisogno ma aveva vergogna a dirlo ecco quindi e non è facile domanda da 100 milioni come facciamo a formare i volontari coloro che si occupano di queste attività a vedere l'invisibile grazie Anna Maria aggiungerei anche gli altri due interventi Ennio se ti va bene quindi lascerei la parola intanto a Mariuccia prego Mariuccia sono qua mi sentite bene buonasera ok grazie allora io volevo accennare ad una cosa che mi ha molto fatto piacere quando Ripamonti l'ha un po' illustrata io faccio parte ho fondato tanti anni fa la banca del tempo la banca del tempo non è una come dire un'associazione di volontariato un'associazione di cittadinanza attiva promuove la cittadinanza attiva per cui mi riferivo anche a quello che diceva Graziella se non ricordo male ecco secondo noi la banca del tempo è relazionale per eccellenza nella banca del tempo le persone ricevono e danno per cui a quel punto nessuno si sente inferiore perché riceve soltanto perché scambia noi abbiamo scambiato anche con il comune abbiamo fatto il piedibus abbiamo dopo magari il comune certe volte è un po' sordo a questa possibilità però noi nella nostra banca del tempo qui di Cremona che siamo qui da tanto tempo abbiamo proprio come dire fondato tutto il nostro fare sul tempo che è la cosa più preziosa che uno ha che regalarlo o darlo è molto difficile perché di questi tempi poi il tempo è prezioso per cui secondo me ma non voglio farla troppo lunga proprio la banca del tempo è a pieno titolo fra i soggetti che promuovono cittadinanza attiva attraverso la solidarietà l'aiuto reciproco sono valori che sorregono ogni comunità che si voglia chiamare tale e che la nostra Costituzione pone nei suoi principi fondamentali ho riportato una frase che noi spesso per illustrare la nostra banca e le persone quando capiscono che questo modo di scambiare è molto molto bello molto importante ed è di fatto un po' la scusa tra virgolette per costruire relazioni relazioni che si protraggono anche nel tempo anche dopo che magari uno è andato fuori dalla banca perché si sono costruite delle relazioni in cui ognuno sente di essere importante noi diciamo sempre e chiudo che nessuno è capace di fare tutto ma tutti sono capaci di fare qualcosa per cui tutti possono aiutarsi a vicende a vicende e scambiare anzi noi siamo stati criticati in alcuni casi ma voi non siete neanche volontariato è più bello il volontariato perché dona senza chiedere ecco noi invece chiediamo perché noi vogliamo scambiare grazie scusate grazie a te madonna lascerei spazio per chiudere questo giro di interventi a Francesco prima di lasciare la parola a Ennio a te Francesco grazie due cose svelte la prima è che mi sembra di avere capito e questo va già bene perché poi io come anche alcuni colleghi sul territorio attiveremo dei laboratori di pratica su questo tema e quindi già l'aver capito bene quindi grazie la seconda cosa è che rispetto alla povertà educativa mi viene da dire che a volte basta anche molto poco siamo costantemente invasi da narrazioni di tutto ciò che non funziona ieri sera abbiamo fatto la prova con alcune organizzazioni in un comune del territorio la prova di racconto di cinque storie di buon volontariato che racconteremo in pubblico è stato davvero un bel momento tant'è che una persona che aveva già fatto la sua prova la volta precedente una persona molto semplice molto umile ha dato questo rimando io in questo gruppo mi sento bene sento raccontare delle storie che mi fanno stare bene ecco credo che al di là dell'esito col pubblico che avremo già questo sia un grande esito cioè a volte basta davvero poco concentrarsi sulle tante cose che vanno e che funzionano e che spesso sono sommerse abbiamo raccolto nove storie ma ce ne sarebbero tante altre che nessuno conosce e conosceva e sono storie che davvero fanno stare bene e chissà quante ce ne sono ma non solo in quel comune anche in tutti i vostri grazie Francesco Ennio ti lasciamo la parola tante le suggestioni in questi quattro interventi per cui ti rilascio la parola a te no no bello sono ampiamente condivisibili nella loro nella loro varietà no perché io credo che mi ha colpito prima si diceva ma ci hanno criticato perché non facciamo il volontariato come se cioè uno può fare innanzitutto uno può fare quello che vuole prima cosa poi i modi per generare una società un pochino più solidale un pochino più coesa sono tanti non è che c'è solo il volontariato con tutto il bene che voglio il volontariato e la banca del tempo risponde a una a una dinamica diversa che è il reintrodurre in una società dove gli scambi sono monetizzati cioè qualsiasi scambio è monetizzato quindi o lo faccio a titolo volontario oppure tu mi paghi anche per portare fuori il cane cioè alcuni ragazzi migranti che ho conosciuto hanno scoperto che ci sono i dog sitter e uno mi ha chiesto ma quello lì che porta fuori i cani lo pagano sì ma e poi mi ha ridetto ma lo pagano per portare fuori i cani e io ho detto sì cioè per lui era inconcepibile che una persona veniva pagato per portare perché dico questo perché per chi viene da un mondo dove questa cosa non ha quindi gli scambi non monetizzati si basano su un principio di reciprocità mentre nella forma più tradizionale del volontariato dell'assistenza che dicevo prima c'è la simmetria tu sei quello che ha una difficoltà io ti aiuto che va benissimo non è che uno è buono o un altro è cattivo a noi tutte le volte capita nella vita che cioè possiamo essere quelli che vengono aiutati quelli che aiutano o appunto possiamo essere in una dinamica di scambio tutto questo ci serve cioè non c'è niente che si butta via quindi il terzo settore le nostre realtà come dire producono legami sociali che sono determinati da forme di aiuto si spera reciproco eccetera qualcuno farà fatica a restituirlo l'aiuto perché può avere molte meno risorse qualcuno diceva invece Francesco lo condivido ma non è per fare think positive come dicono in California il pensiero positivo c'è una corrente della psicologia americana che si basa sul think positive pensiero positivo quindi non è tanto quello ma perché è proprio vero quello che dice Francesco cioè ci concentriamo troppo sulle cose che non vanno che già sappiamo che non vanno e una delle cose questo facendo sto lavoro da tanti anni l'ho capito una delle cose che fa venire voglia di avvicinarci al nostro mondo è il raccontare non solo la litania di tutti i problemi che ci sono perché alcuni scappano a gambe elevate se sento una narrazione così ma a fronte dei problemi che ci sono quanto poi in maniera anche abbastanza semplice alcuni si riesce a risolverli cioè questa cosa qui che può essere banale è in proprio in psicologia sociale è proprio chiamato contagio sociale positivo cioè io entro lì e se io sento quel signore lì che racconta dice ma io qua sto bene mi piace questa cosa qui mi piace venire qui ecco credo che il nostro mondo è un mondo che a volte da fuori viene visto io me l'accorgo parlando con tante persone a volte viene visto come molto più grigio serioso di quanto è perché poi a fine è anche un mondo molto molto piacevole e divertente quello che diceva Luisella è vero cioè l'enfasi della privacy è proprio la cultura dell'appartamento come appartarsi e della privacy come isolarsi genera solitudine cioè io sono convinto che alcuni di quelli lì che sono che sono schizzati via alcuni c'erano da fare altri non non sanno più come si fa a fare due parole cioè alcune persone fanno fatica a avere relazioni ma non perché sono cattive eccetera fanno proprio fatica e c'è questo mito della felicità individuale in cui io a casa mia mi metto Netflix mi metto lì e sono i miei e sono a posto ma non sei a posto per niente perché basta una cosa che viene giù tutto non sei a posto ecco quindi queste cose qua che cosa facciamo noi noi credo oltre che fare servizi eccetera proviamo a seminare a coltivare dei contesti micro sociali in cui ci sono un po' più di relazioni ci sono un po' più di relazioni non monetarie cioè non regolate dal mercato tu paghi io faccio questo tu mi paghi faccio quello che già sono strabordanti queste relazioni sono quasi tutte così ormai c'è un associato americano che ha scritto un libro ho sentito la privatizzazione della vita intima il figlio me lo pago l'anziano me lo pago il cane devo pagare la casa devo pagare che me la puli cioè tutto tutto l'intimità di molte famiglie occidentali è subappaltata al lavoro di cura spesso di gente che viene dall'altra parte del mondo che è contenta di fare sto lavoro ma che a me che mi stanno facendo delle interviste che ha detto ma non curano i figli non guardano i cari non vedono cosa fanno vanno a lavorare ho capito ma quindi questa privatizzazione della vita intima è il mito del lavoro e del successo ha dei costi affettivi perché anche i vasi se non trovi se non trovi neanche il tempo di bagnare i vasi devi pagare qualcuno che ti bagga i vasi ma non c'è capito quindi queste queste dinamiche che state raccontando secondo me sono anche la microfisica dei legami sociali perché i legami sociali nella loro microfisica sono fatti di quotidianità di cose che accadono tutti i giorni e se si chiacchierano fuori e quello che diceva Francesco cioè sono degli esempi in cui si possono produrre iniziative e il racconto la narrazione proprio la narrazione è una delle forme dell'antropologia umana più antiche cioè noi dobbiamo raccontare il mondo cioè il mondo va raccontato quindi trovo che la narrazione di come è andata bene quella cosa lì di quel ragazzo che ce l'ha fatta di quella famiglia non è tanto una sorcia non è il corriere buone notizie va bene ma è anche proprio un evento sociale che produce meccanismi di contagio sociale positivo io in questo credo credo tantissimo e le persone si avvicinano perché ne hanno voglia non tutte ma molte ne hanno voglia cioè tutti hanno voglia di star meglio non è che ecco quindi credo che i vostri spunti quello che ci siamo detti come rendere visibile l'invisibile concludo allora secondo me in più modi un modo è quello che è stato detto cioè formare le persone magari accorgerci un po' di più e a leggere una relazione non solo sulla base dei bisogni e dei problemi eccetera l'altro è moltiplicare gli occhi che guardano cioè gli occhi che guardano sono tanti per esempio mi viene in mente un progetto che è stato fatto qui fuori fuori Milano a Rò dove per agganciare un po' le persone in difficoltà hanno fatto un accordo questi del comune con quelli del gas quelli delle bollette per fare per le persone a cui veniva mandata a casa la lettera in cui venivano intimati perché erano indietro con le bollette sapete quindi la cosiddetta morosità incolpevole che ha un nome e un cognome forse è possibile anche senza cedere perché sono sono dati riservati di promuovere anche un progetto cioè è stato quindi l'azienda in questo caso municipale ha fatto proprio il progetto nella propria nella propria responsabilità sociale di impresa e oltre a dire paga se no ti stacchiamo la luce c'era dentro il messaggio se hai difficoltà se ci sono dei problemi guarda che ci sono dei progetti c'è questo e questa cosa ha funzionato diverse persone hanno capito cioè gli è stato detto anche guarda che si può dare quindi nei nostri stessi comuni abbiamo magari parte al piano di sotto l'Atari e dice sono tre anni che non paghi l'Atari guardi che devi pagare dall'ufficio verso piano e al primo piano abbiamo il servizio sociale quindi è interessante anche connettere questi diversi volti dello Stato anche in una strategia con tutto l'attenzione e la privacy delle persone anche che può dare messaggi di aiuto vedo che molti si stanno scollegando arriviamo al finale giustamente Lorenzo sei mutato scusatemi sì sì scusate direi allora a questo punto se non ci sono altri interventi direi che possiamo andare a chiusura per cui ringraziamo tanto Ennio grazie Ennio di questa tua ennesima collaborazione con noi all'interno dei nostri momenti di formazione di comunità potrebbe essere che ti richiederemo ancora di poter intervenire all'interno di altri incontri vi ricordo che a breve potrete riaccedere alla visione del video sia attraverso il nostro sito internet che attraverso la nostra pagina di youtube e che sicuramente entro l'estate orientativamente verso la fine di maggio e primi di giugno organizzeremo un secondo incontro di formazione di comunità attorno ai temi della giustizia riparativa o utilizzando un termine un po' più in voga della giustizia di comunità per cui non mi resta che salutarvi ringraziarvi della partecipazione e dei contributi che ci avete messo a disposizione e vi auguriamo una buona serata a presto e grazie ancora ciao a tutti e a tutti buonasera a tutti grazie saluti grazie io rinvovo l'invito quando verremo sui territori voglio vedervi a tu per tu grazie grazie a tutti buona cena buona cena ciao Ennio grazie ciao ciao arrivederci ciao Ennio grazie ciao Ennio grazie mille bellissimi spunti è andato ci manda anche le slide Maria poi Lorenzo sì sì certo le abbiamo già perché prima nel dubbio che che non riuscisse a condividerle me le ha mandate per cui le abbiamo già salvate sì va bene carissimi buonasera grazie a tutti e grazie a presto ciao 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 ah guarda che c'è anche Sergio la registrazione la registrazione ciao Sergio sì Paola la